Musica Seduta straordinaria di consiglio comunale questa mattina ad Acireale, ospite il commissario straordinario per la depurazione. Musica Consegnati stamane ad Acireale i lavori per il ripristino della pubblica illuminazione nella parte alta di Corso Italia, costo complessivo 311 mila euro. ZTL, nuove modifiche in arrivo all'indomani della concertazione con i commercianti del centro. Musica Bentrovati con il nostro Tg Reporter, tra gli altri argomenti del nostro giornale ci soffermeremo sull'atto doloso, l'incendio doloso all'automobile di un esponente politico catenoto, Basilio Orfila, che oggi, all'indomani appunto di questo incendio, definisce l'incendio stesso un attacco ad Aci Catena. Parleremo anche d'altro, dedicheremo attenzione ad una rappresentazione teatrale in programma ad Aci Catena e al riepilogo della puntata di Salute e Benessere 2.0, ma parleremo anche di calcio, il DS della Cireale all'indomani della sconfitta patita nel turno infrasettimanale di campionato della Cireale lancia un ultimatum domenica, la prova del 9 per l'Aci Reale, a sentire Leonardo. Andiamo a cominciare, lo facciamo con il consiglio straordinario tenutosi questa mattina ad Aci Reale per ospitare il commissario straordinario per la depurazione che appunto ha relazionato insieme alla sua squadra sull'impianto di depurazione consortile di Aci Reale e di altri 10 comuni interessati. Una rete di collettori di 370 chilometri per realizzare l'impianto fognario depurativo che comprende i territori di Aci Reale e di altri 10 comuni. Stamane nella sala del consiglio, ospite d'eccezione, il commissario straordinario per la depurazione insieme alla sua squadra, tra i banchi del pubblico si notavano le presenze di tanti sindaci del territorio, tra questi Santo Caruso per Aci Sant'Antonio, Salvo Greco per Santa Venerina, Franco Leonardi per Via Grande. Il commissario ha illustrato il progetto di fattibilità dell'opera che, come anticipato nei giorni scorsi dal sindaco Stefano Ali, prevede la realizzazione di due nuovi impianti di depurazione. Il primo in località Femmina Morta, che servirà ai comuni di Santa Venerina, Zafferana e la parte nord di Aci Reale, vale a dire Guardia, Mangano e le frazioni Marinare. E l'impianto di San Girolamo, che servirà ai comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Sant'Antonio, la zona est di Tracastagni, Valverde, Via Grande, Aci Catena, la zona nord di San Giovanni La Punta e, per l'appunto, Aci Reale. Il professor Rolle, in buona sostanza, ha illustrato al civico consesso accese, dopo anni di indecisione politica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica del sistema fognario depurativo. Oggi abbiamo accolto l'invito a presentare in consiglio le soluzioni che prospettiamo, che sono per la depurazione di Aci Reale dei bacini di monte, basate su due impianti di depurazione presso la costa, che saranno realizzati con tecniche molto avanzate e assicureranno la protezione dell'acqua marina nel modo adeguato. Si parte da un finanziamento iniziale di 133 milioni di euro? Sì, adesso il finanziamento necessario, avendo fatto tutti gli accertamenti, arriva a circa 200 milioni e abbiamo già fatto domanda di integrazione, arriveremo a quella cifra poi. Lei ha avuto modo di seguire l'iter di questo impianto, di questo depuratore? Sì, sì, sono commissario da circa un anno e mezzo, quindi ho ricevuto il lavoro che era stato fatto dal precedente commissario, la dottoressa Contrafatto, e in questo ultimo periodo c'è stato un po' un rallentamento dovuto al fatto che qui è cambiata l'amministrazione, c'è stato un commissario di mezzo il quale naturalmente ha detto qualcosa che devono decidere i sindaci legittimamente eletti e quindi oggi siamo qui alla conclusione di questo percorso. Glielo chiedevo perché in passato si è faticato parecchio in Consiglio a localizzare la sede dell'impianto consortile che doveva nascere. Sì, adesso ho detto sono due gli impianti, crediamo di aver fatto un buon lavoro, grazie anche ai rapporti con la precedente in questa amministrazione, di aver individuato delle localizzazioni che noi riteniamo buone, quindi poi ci confronteremo, insomma noi riteniamo di aver fatto un buon lavoro e di aver trovato una giusta soluzione. Possiamo abbozzare dei tempi di realizzazione? I tempi sono quelli che io ho già trasmesso al Ministro dell'Ambiente, quindi sono sui quattro anni tra progettazione e realizzazione degli interventi. Anche perché siamo sotto infrazione? Siamo sotto infrazione, purtroppo partiamo oggi, quindi ci prenderemo quattro anni di sanzioni, che purtroppo non siamo in grado di evitare, i tempi per realizzare le opere sono questi. Grazie. Il Consiglio è ancora in corso, il Commissario Rolle ha anche detto che prima di avviare l'ITER terrà una conferenza di servizi preliminare e si è detto comunque disponibile a ritornare a discutere sullo stato di avanzamento del progetto stesso. Questa mattina abbiamo sentito anche la Presidente del Consiglio Comunale, Sonia Botto. Questo consiglio è straordinario, sono molto contenta di presiederlo perché indubbiamente la presenza congiunta di tutti i consiglieri, dell'amministrazione, del Professore Rolle con il suo staff tecnico, indubbiamente fa capire che c'è una volontà di dialogare per realizzare un'opera fondamentale e indispensabile. Mi permetto una battuta un po' per stemperare anche la gravità, le importa il momento. Ecco, in effetti Aciriale ha aspettato oltre 30 anni per la realizzazione di queste importanti opere. Siamo stati bravi nel senso che abbiamo aspettato che la tecnologia arrivasse ad un punto tale per cui ci potremo permettere, mi auguro che sia così, il depuratore in assoluto più avanzato tecnologicamente che in questo momento noi possiamo ambire e permetterci. Diciamo che aver aspettato se da un lato, indubbiamente, sicuramente ci saranno state delle varie ragioni, ci ha penalizzato, dall'altro forse traerevo qualche vantaggio. Diciamo che la politica non ha saputo decidere in questi anni. Sì, sicuramente. È un argomento molto complesso, si innescono, immaginano, delle dinamiche diverse. Ora è arrivato il punto, insomma, di agire nel miglior modo possibile. E questo colloquio tra le amministrazioni, oggi saranno presenti anche alcuni sindaci dell'Interland interessato, l'amministrazione, il commissario, il governo, insomma, è fondamentale perché solo il dialogo fattivo e concreto ci può far studiare la soluzione migliore. Il nostro territorio è un territorio di una bellezza inestimabile, quindi lo dobbiamo preservare al meglio. Cronaca, i carabinieri della stazione di Acci Catena hanno arrestato il 29enne Andrea Greco, un giovane del posto, in esecuzione di un ordine per l'espiazione di pena detentiva emesso dalla Corte d'Appello di Catania. Il giovane, già condannato dai giudici per tentato furto aggravato, reato commesso nell'aprile del 2016, dovrà espiare la pena cominata agli di 5 mesi e 16 giorni di reclusione. L'arrestato è stato così posto in regime di detenzione domiciliare. Adesso invece ci occupiamo della vicenda che ha interessato suo malgrado Basilio Orfila ad Acci Catena. Basilio Orfila che oggi definisce l'incendio doloso alla sua automobile un attacco alla cittadina, ad Acci Catena. Un paese che sta perdendo i suoi valori morali e culturali, dice. Vediamo. Ad essere attaccata è stata Acci Catena e sordisce così Basilio Orfila all'indomani dell'incendio doloso alla sua auto, che si tratti di un atto di intimidazione politica o di un semplice atto vandalico, a pagarne le conseguenze il nostro paese che vede pian piano decadere ogni valore morale e culturale. Mi rammarica vedere, ha aggiunto Orfila, che i rapporti all'interno del territorio nel quale ho scelto di far crescere i miei figli si stiano incrinando. Ogni giorno viene posto un ostacolo alla convivenza civile. È amara la sua constatazione, alla quale Orfila ne aggiunge però anche un'altra. Ho ricevuto privatamente la solidarietà di alcuni consiglieri comunali, ma nessuna parola né da parte degli esponenti principali dell'amministrazione né da parte del leader dell'opposizione, Francesco Petrelia. Certi atti, ha concluso Orfila, vanno pubblicamente contestati al di là delle affinità politiche. Giovedì è stata trovata in fiamme la sua auto, un Opel Sindra, ferma da tempo nei prezzi dell'abitazione dello stesso proprietario perché ormai in disuso. Orfila si sa che è un personaggio molto noto in paese, candidato a sindaco alle scorse elezioni, ha anche alle spalle un trascorso da assessore. È conosciuto per le sue costanti denunce contro il malaffare, è uno di quegli attivisti che non ha mai avuto il timore di contestare apertamente atteggiamenti che a lui proprio non sono piaciuti. L'ipotesi del dolo sembra ormai una certezza. Impossibile pensare ad un cortocircuito in quanto l'automobile era stata privata anche della batteria e per di più non sono state rilevate anomalie di sorte al motore. Difficile da immaginare inoltre che ad originare l'incendio possa essere stato un mozzicone di sigaretta visto la portata delle fiamme troppo ampie ed estese. Qualcuno probabilmente ha cosparso la macchina con del liquido infiammabile. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Acicatena presso la quale lo stesso Orfila asporto denuncia contro ignoti. Ci fermiamo, alcuni minuti da dedicare alla pubblicità e torniamo con tutti gli altri argomenti. Ottica Grasso presenta lo stile più cool del momento il tutto tondo in metallo celluloide. Ottica Grasso, le novità sulle collezioni vista sole dai brand più di tendenza. Concessionario ufficiale Cartier, centro d'eccellenza Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Venite a provare il nuovo Blue Control, il trattamento che protegge i tuoi occhi dalle luci blu. Ad Acireale, concept store in corso Italia 122. Ad Acicatena, inviamatrice 34. Ottica Grasso, la migliore visione. Sconti fino al 40% su tutte le montature. Vendita soggetta limitazione. Trova il rimedio naturale. Al centro antichi tesori della dottoressa Venera Caltabiano. Ora nel nuovo locale, più ampio. In corso Savoia 1, Acireale. La dottoressa Caltabiano, nutrizionista da oltre 25 anni, offre la sua professionalità con consulenze gratuite sull'alimentazione e diete personalizzate. Oggi vi offre la possibilità di scoprire attraverso il test del DNA problemi legati ad intolleranze alimentari, stipsi, cefalee, gonfiori addominali, stanchezza e ritenzione, oltre a prevenire tante altre patologie. Centro antichi tesori. Vasto assortimento di prodotti fitoterapici, erboristici, alimenti e dolci bio. Per chi soffre di dermatiti o allergie della pelle, intimo e abbigliamento bio. Per i bambini, giocattoli in legno e peluche bio. Villa Grazia. Due strutture ricettive per anziani dove puoi scegliere di vivere serenamente e spensieratamente. Villa Grazia. È a disposizione di tutti quegli anziani autosufficienti e non, che si trovano nella necessità temporanea o definitiva di poter mantenere la loro autonomia all'interno di un contesto di ospitalità, con assistenza continuativa da parte di personale specializzato, in grado di seguirli nello svolgimento della loro vita quotidiana. Villa Grazia. Una grande esperienza maturata in tanti anni di attività e consolidata giorno per giorno. A Santa Venerina, via provinciale Linera, per info 345 935 46 64 o 349 775 57 27. www.gruppovillagrazia.it Plaza Toast ti porta al cinema. Prova il menù Cine Toast che comprende un toast, una bevanda analcolica e un biglietto d'ingresso per il margherita multisala. Da Plaza Toast si è sempre felici di andarci, perché i toast sono dei mega toast doppio gusto, preparati con prodotti selezionati. Pane bianco, pane integrale, pane vegano, pane alle noci, 30 scelte, tra cui lo sweet toast, il toast dolce con creme, nutella, cioccolato bianco, pistacchio, burro di arachidi o confetture. In più, sfiziose insalate e nutrienti estratti, energetici, disintossicanti o rinfrescanti. E novità, toast anche per celiaci. Plaza Toast, aperti a pranzo e a cena, in piazza Garibaldi 1314 ad Acireale. Servizio a domicilio in tutta la città, 345 816 20 22. La nostra moda? Da OVS Kids ovviamente! Da OVS Kids sono arrivati centinaia di nuovi capi con i colori e i modelli per l'autunno-inverno. Prova da OVS, scopri le grandi promozioni e un assortimento ricchissimo, dal corredo doppio zero ai 14 anni. OVS Kids, moda colore, moda fantasia, moda allegria. Per bambini e ragazzi a cui piace muoversi in libertà, un grande assortimento nel quale sbizzarrirsi. OVS Kids, ad Aci Catena, in via Vittorio Emanuele 1416. A posto! A posto! A posto! I professionisti dell'auto. Metti in sicurezza la tua auto, controllandola dalla A alla Z da Service Car a posto. Controllo elettrauto, meccanico, carrozzeria, gommista, centro revisioni. Affidati a noi! Per la prima volta ad Acireale, una struttura completa per l'assistenza della tua auto. A posto! Service Car di Riolo, via Salvatore Vigo 45. Per info 095 60 42 69. Scopri gli incentivi e le promozioni in atto. A posto! In tutta Italia, in 1800 centri. A posto! Service Car di Riolo, via Salvatore Vigo 45. Ricordate il furto di cavi registrato nella parte alta di Corso Italia? Eravamo nell'ultima parte di legislatura dell'allora sindaco Garozzo. Da allora il buio in quella zona. Adesso finalmente torna la luce. Stamattina ha consegnato i lavori. Vediamo. Ritorna la luce nella parte alta di Corso Italia ad Acireale. Dopo anni di buio, a causa di un furto di cavi, avvenuto addirittura durante il periodo dell'ultima sindacatura Garozzo, finalmente si interviene. Si tratta, come detto, della parte alta del Corso Italia, ma si interverrà nel tratto che va dall'incrocio di via Kennedy all'incrocio con via Lazzaretto. Due gli interventi previsti. Prima il ripristino della pubblica illuminazione per un costo complessivo di 311 mila euro. Quindi la riqualificazione del manto stradale e dei marciapiedi interessati dalla tromba d'aria del novembre 2014. Stamane la consegna dei lavori. Stamattina abbiamo consegnato i lavori di pubblica illuminazione del Corso Italia, la zona che è da anni al buio, con sostituzioni di alcuni pali, il ripristino di tutti gli impianti. Si tratta della riqualificazione degli impianti elettrici, quindi la prima cosa è che si dovrà vedere tutti i cavi che mancano e sostituirli, sostituire i pali che sono pericolanti. L'avvio sarà nei prossimi giorni, questo è l'impresa, il tempo di organizzare materialmente il cantiere, ma si tratta di pochissimi giorni, lunedì, martedì, mercoledì al massimo. Subito dopo è già in via di affidamento definitivo la ripavimentazione che ovviamente sarà fatta dopo i lavori di interventi elettrici. Restiamo ad Acireale perché parliamo ancora di ZTL. La concertazione tra i commercianti del centro e l'amministrazione comunale è continuata. Ieri sera un nuovo incontro che adesso porta a delle modifiche che verranno attuate a breve. Vediamo. Le nuove disposizioni sulla zona traffico limitato avevano sollevato qualche mugugno tra i commercianti di Corso Umberto. La chiusura al traffico veicolare nei fine settimana, nei giorni festivi dalle 19 del sabato alle 23 della domenica, saranno ancora rimodulati. Il sindaco infatti, dopo aver chiesto due settimane di tempo per poter verificare insieme all'assessore della mobilità grasso gli effetti del nuovo provvedimento, ha incontrato ieri nuovamente i commercianti del centro. Ieri con i commercianti abbiamo valutato l'esito della sperimentazione del mese di novembre. Parlo di sperimentazione perché in assenza di piano la ZTL può essere solamente sperimentale. Nel corso dell'incontro è emersa l'opportunità di chiudere, rimanere con la situazione attuale per quanto riguarda Piazza Duomo, mentre aprire al traffico la via Umberto, che la domenica, anche devo dire alla luce delle sperimentazioni di queste due settimane, non è stata particolarmente vissuta dai cittadini. Quindi di fatto si è ritenuto di dare ascolto a questa esigenza che si limita ovviamente alla parte iniziale di Corso Umberto, quindi da Piazza Duomo fino a Piazza Garibaldi. È una soluzione che possa contemperare le esigenze di coloro che hanno le attività commerciali con le esigenze di chi in città ha anche piacere di passeggiare soprattutto nelle giornate festive nella nostra bellissima piazza, nel nostro bellissimo centro storico. Andrà in vigore adesso e resterà in vigore per tutto il periodo natalizio ed anche oltre perché noi riteniamo che questa situazione vada monitorata sino al 31 gennaio. Al via ad acirare due corsi di formazione per insegnanti, genitori e assistenti all'autonomia e alla comunicazione organizzati dalla cooperativa sociale Orsa Maggiore di concerto con il settore pubblica istruzione, servizio di psicologia scolastica del comune di Acireade nell'ambito dei servizi per l'inclusione degli alunni con disabilità grave. Per informazioni contattare la cooperativa sociale Orsa Maggiore telefonando allo 095 80 29 64. E adesso riflettori su salute e benessere 2.0. Ieri sera la nona puntata della rubrica. Vi offriamo un breve riepilogo. L'incidenza maggiore non è solo tra chi pratica attività sportiva a livello agonistico ma anche chi la pratica a livello amatoriale. In un appuntamento nel mondo della medicina e della scienza salute e benessere 2.0 si è soffermato a trattare i traumi sportivi insieme al dottor Mallio Grimaldi medico chirurgo, specialista in ortopedia e traumatologia. Con lui sono stati analizzati le quattro categorie di traumi sportivi come usura, traumi da impatto, fratture e lussazioni, distorsioni e stiramenti soffermandosi anche alle fratture da stress intese come piccole crepe osse causate da sollecitazioni ripetute che solitamente interessano piedi e ossa lunghe delle gambe. L'attività fisica è bene praticarla a qualsiasi età con qualche accorgimento alla prevenzione. Per questo motivo bisogna motivare i più piccoli a iscriversi in sport di squadra o in quelli individuali affinché imparino valori come aggregazione, integrazione e altro. Questo è quello che da due anni e mezzo porta avanti il dottor Grimaldi insieme ad un gruppo di ragazzi migranti con i quali è nata la Nazionale dello Sport & Joy. Nazionale è un nome pomposo per quello che voleva essere, cioè accomunare a sé chiunque volesse giocare con noi a pallone. L'obiettivo era partecipare a dei campionati, a gare amichevoli, gare di beneficenza. Giochiamo un po' dappertutto. La maglietta, quella azzurra della Nazionale, con determinati loghi nostri personali. Ultimamente, grazie all'aiuto di amici, ci siamo ritrovati a avere la seconda maglia. È una maglia che ho voluto portare, quindi se ho la possibilità vorrei mostrarvela. Ed è questa, che è la maglia, sempre della Nazionale, della Sport & Joy, che ha un logo bellissimo, a mio avviso questo, il 100, che vuole significare quando nell'arco noi siamo, questa coda della Nazionale c'è da due anni e mezzo e in due anni e mezzo abbiamo fatto ormai più di 100 partite. Quando abbiamo fatto la centesima, ci siamo regalati questo piccolo loghietto. Giochiamo col cuore, un cuore al centro della nostra maglia, il nome Sport & Joy, ma principalmente, ultimamente, abbiamo voluto attenzionare due messaggi importanti che facciamo proprio con i ragazzi migranti. Rispetto. E poi, altro messaggio ritengo fondamentale in un periodo che non ha mai fine, quello dello stop la violenza sulle donne. Novembre, quale mese della prevenzione e informazione anche per le malattie che colpiscono il sesso maschile dal quale ne è nato il movimento Movember? Movember da moustache e del mese di novembre. Tutti gli sportivi e non durante il mese di novembre fanno informazione di quello che è le problematiche al maschile, le problematiche tumorali, quelle ai testicoli, alla prostata, a problemi anche di salute mentale. E lo fanno con questa particolarità del baffo. Persone come me, che non hanno mai portato i baffi, che non portano i baffi, si ritrovano praticamente attraverso il proprio volto a incuriosire l'amico, il conoscente, quello che trovi per strada. Ti chiedono, ti chiedono, e tu dai parte da quel momento l'informazione. E adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità, e poi la terza parte, parleremo di teatro, parleremo di calcio. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info, 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Fornace 41, il piacere di socializzare. Tra un drink e un bicchiere di vino, ti incontri, ti diverti, socializzi e trascorri piacevoli momenti di relax. Fornace 41, drink, wine bar, sweet and soul, musica, eventi, cortesia e tanto altro ancora. In un'atmosfera unica, riservata ed elegante. Fornace 41, il social bar. Adagi Castello, in via Fornace 41. Fai un drink speciale, metteci un pizzico di tè e tutto il mondo da scoprire da Fornace 41. Signor Canetta, siamo a casa nuova, si sveglia. Matt, 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 che fu che è successo qui? Aiuto! Pi! E chi è? Mi montassero già tutte cose? E io pensavo che stavo sognando, ma questa è realtà, questa è magnificenza! Ti montano e ti smontano che manco, ti accorgi, è un sogno! La Sicilia Traslochi! Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi. Viaggi settimanali, da e per il nord. Copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro. Ma dove vai se la Sicilia Traslochi non ce l'hai? Macelleria Cannavò, tradizione di qualità. I nostri animali sono siciliani, perché nascono e crescono nella nostra terra, dove vengono allevati all'aperto con tanta cura e con alimenti naturali. Macelleria Cannavò fa parte del Consorzio Carni di Sicilia. Scelgo la qualità per la mia famiglia. Il Consorzio Carni di Sicilia valorizza la tipicità e qualità della carne bovina siciliana, certificandone la provenienza attraverso l'etichettatura volontaria. Macelleria Cannavò, gusto e qualità sulla tua tavola, con specialità pronto cuoci, che se vuoi puoi gustare anche nel nostro ristorante. Macelleria Cannavò, Viale Regina Margherita 1820, ACI Reale, carne a sicilianità garantita. Opel Carlo Rox, il mini-sub da città. Opel Carlo Rox, a riposto da Gid Auto Point, presso centro commerciale Conforama. Guarda, amore, il mini-sub da città Opel Car Rox. Questa voglio. Amore, ti piace la nostra nuova macchina? Mamma, è bellissima la nostra Opel Car Le Rox. Gid Auto, concessionaria Opel a Catania, in via Brancati 2545, e a riposto Gid Auto Point, presso centro commerciale Conforama. È arrivata, è arrivata, l'enzolata già lavata. Bella, fresca? Bella, fresca. È no sana, da ridare. Sulla riviera Ionica, coltiviamo le nostre verdure. Genuine, già pulite e pronte da gustare. Ci piace. Bella, fresca. L'insalata siciliana a chilometri zero. Al Teatro Stabile di AC Catena si apre domani sera la 36esima stagione teatrale di scena l'Associazione Culturale Giovanni Grasso con il dramma di Nino Martoglio, Scuru. È la storia di una famiglia povera ma onesta dove i figli, un fratello e una sorella accudiscono amorevolmente il padre, un sensale rimasto cieco quando una notizia si abbatte su di loro, stravolgendo quell'equilibrio che avevano raggiunto a seguito della morte della mamma. È quanto scritto da Nino Martoglio nel suo dramma in tre atti, Scuru, portato in scena per la prima volta nel 1917 con attore e protagonista Angelo Musco e che questo weekend l'Associazione Culturale Giovanni Grasso riproporà al Teatro Stabile di AC Catena presso il Teatro alla Matrice, aprendo così la 36esima stagione teatrale. Attorno a questi personaggi si sviluppa tutto un dramma familiare che porta la famiglia a vivere dei momenti un po' particolari, un po' strani, se vogliamo. Successivamente poi il vero dramma scoppia quando il figlio riceve la cartolina a precetto per partire militare perché il dramma si svolge a ridosso della prima guerra mondiale quindi nella guerra del 15-18 e quindi quando questo figlio deve partire per la guerra il padre si sente completamente privo di sostegno e quindi il vero dramma è proprio qui per come è strutturata la famiglia, per il senso di solidarietà che si viene a formare fra i vicini, gli amici a sostegno di questa famiglia così tribolata diciamo. C'è anche questa forza d'animo di questa persona che cerca in tutti i modi di vincere quella che è questa sensazione di disagio di essere cieco, di essere... Infatti c'è una frase che dice io ho mio figlio che è la luce dei miei occhi e quindi posso fare tutto quello che voglio. Nonostante diversi siano i contesti storici le vicende della famiglia Latinu continuano ad essere attuali ma come questa cercano di superare le difficoltà e a non abbattersi. Per l'associazione Giovanni Grasso sarà la prima di tre opere che metterà in scena. Alle spalle un'esperienza quasi quarantennale rappresentando già il dramma di Martoglio anni fa. A curare la regia Giovanni Costa che ha voluto mantenersi fedele al testo dove Martoglio anche in questo caso scrive in dialetto utilizzando termini che ad oggi appaiono desueti. Alcuni termini un po' desueti diciamo se vogliamo però che danno il senso veramente di quello che il modo di vivere a quei tempi e che però si possono benissimo trasportare nell'epoca moderna perché nel contesto si capisce cosa vuol dire la votore. E adesso parliamo di calcio. Questo pomeriggio riprendono gli allenamenti dei Granata in vista dell'incontro a Cireale-Locri valido per l'undicesima giornata di campionato in Serie D in programma allo stadio Tupparello domenica alle 14.30. Nel frattempo scorrono le immagini della gara persa nel turno infrasettimanale sempre al Tupparello contro il Marsala. La società per agevolare la partecipazione di tutti ha deciso di confermare il ridotto donna in tribuna ad Euro 5 di introdurre il ridotto donna in curva sempre con 5 euro. pertanto si pagheranno 16 euro in tribuna centrale 12 nella tribuna laterale 8 euro in curva per la donna 5 per gli ospiti 8 euro. Ingresso omaggio per i minori di 14 anni presentando il documento di identità biglietti acquistabili in prevendita tutti i giorni in sede dalle 16.30 alle 19.30 oppure su www.liveticket.it o domenica direttamente al botteghino che sarà aperto dalle ore 10 intanto però tiene ancora banco in casa a Cileale la cocente sconfitta nel derby contro il Marsala nel turno infrasettimanale e nel dopogara sono giunte le dichiarazioni di Pasquale Leonardo che ha lanciato una sorta di ultimatum. Anche oggi la squadra ha fatto male e sia l'allenatore sia la squadra adesso dovranno renderci conto e dovranno spiegarci in modo esaustivo quello che sta succedendo per quanto mi riguarda domenica c'è l'ultimo appello dopodiché prenderemo provvedimenti anche importanti nei confronti di tutti da queste situazioni si esce giocando bene a calcio stando concentrati tirando fuori gli attributi perché questa squadra fino a un certo punto del cammino fin qui fatto ha dimostrato di averli ultimamente li ha persi dovremo valutare quali sono i motivi che hanno portato a questo tipo di involuzione nelle ultime partite e prenderemo provvedimenti di qui a Pichissimo. Chiaro Pasquale Leonardo in quella che è una breve dichiarazione ma abbastanza chiara nei toni nei contenuti e adesso andiamo a chiudere lo facciamo con le previsioni meteo per domani. Nuvolosità variabile con occasionali rovesci temperature minime e massime stazionarie senza grosse variazioni venti moderati mare mosso è tutto anche per oggi grazie per essere stati con noi appuntamento con il nostro TG Reporter domani alle 13 e 40 arrivederci a